Questo è riscatto. In questo libro si parla di Covid necessariamente e anzi da lì si parte. E poi di sanità, di giovani, di scuola, di lavoro, di welfare, di demografia e di immigrazione. Ovviamente di politica, di come i riformisti possono, a mio avviso, affrontare e vincere la loro partita contro populisti e sovranisti. Delle grandi trasformazioni del nostro tempo e di come sia importante accompagnare gli effetti. Del ruolo che l'innovazione potrà giocare nella battaglia contro il cambiamento climatico. Insomma, riscatto parla del nostro futuro. Lo trovate in libreria e negli store online. Ve lo consiglio.